e quindi voli stessioni luci deboli scuola scuola so che questo si gioca quando vuoi essere tagliato cioè sei disposto a essere tagliato? si, diciamo che probabilmente il nero non piange se bianco gioca qua potremmo giocare a questa parte con i miei acciai tagliato qualcosa non so se questa o i miei acciai una nera pallici non so se non so ti sono tanti modi però di difendere magari non così facendo uno spito non so se li mi sguardo come sono tanti modi però di difendere magari anche così facendo uno spirito a mano e almeno non so se è un'esperienza Sì, adesso però magari anche subito qui. si può andare un po' all'attacco di queste e poi usare questa come base per invadere tutto questo modo ma magari lo sbagli cercherei qui non lo so, magari un'invasione si può dare più alti pezzi però però si lascia tutto questo per contro se viene lì ne lo fa qui però posso prendere una base qui e rimane praticamente solo questo peraltro questo mi assomiglia un po' da me bisognerà... il punto un po' vitale della forma non so più esattamente quale ma dovrebbe dar fastidio il punto un po' vitale della forma forse non è una cosa migliore si può anche considerare magari... qui nero è ancora aperto quindi diciamo che nero pieno ha questo moio e basta, non ha dei punti concreti e ci sono altri cercano di far more al tenente quello continui a poter essere separata fu adesso continui a poter essere separata Scelto e percependo che ti senti coi mesi non mi senti un po' di non mi senti sono Aspetto alla scala Oltre che a tagliare Peraltro questa Scala bianca Scala bianca Oltre che a tagliare Catturare 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 la giusta, bisogna trovare il modo di farla, vino, vino, schiccia il bianco, ok, poi qua, adesso queste sono tagliabili e non sono più tanto deboli perché sono tutte collegate alle altre, grazie a tutti, grazie a tutti.